Stati generali del vending 2015, Milano, presso Confcommercio abbiamo avuto l'opportunità di beccare al volo la responsabile marketing di Venditalia, la manifestazione che si terrà fra circa 8 mesi a maggio del 2016 in un'edizione assolutamente rinnovata. Monica, buongiorno e bentornata dinanzi agli schermi di vendintv.it, tu sei una vecchia conoscenza e dunque diciamo anzitutto da dove proviene Monica Balocco. Grazie mille Fabio e buongiorno a tutti. Monica proviene da quasi 20 anni di marketing, ahimè vorrei dire, e da oltre 10 anni di esperienza nel vending. Sono venuta a contatto con questo settore in Lavazza e ho avuto l'opportunità, grazie comunque a Confida, di rientrare come consulente nell'area marketing e comunicazione per Venditalia. quindi sono qui, sono contenta perché posso ritornare in questo settore e soprattutto in questa bellissima sfida che è Venditalia 2016. Il marketing è assolutamente sempre molto creativo, il vending è altrettanto creativo perché c'è sempre da imparare da una parte e dall'altra poter riuscire a manifestare tutta la creatività che c'è dentro ognuno di noi. insomma, hai unito due grandi amori e li hai messi insieme per un'esperienza non di certo light, ma molto molto importante che ti vede principale protagonista per la promozione di questo evento di maggio 2016. Intanto, su cosa si basa questo evento? Quali le novità? Allora, innanzitutto noi stiamo lavorando e abbiamo lavorato al riposizionamento di questa fiera da International a Worldwide. Vogliamo che veramente questa manifestazione abbia un impatto globale perché il vending è made in Italy e Venditalia è la manifestazione più importante di questo settore. Abbiamo dei numeri molto importanti, vogliamo confermarli, vogliamo affermarli, vogliamo superarli ma soprattutto vogliamo affermare e continuare ad essere, diventarlo sempre di più il punto di riferimento, il luogo di incontro della produzione con la distribuzione, il momento in cui si fa business, la fiera e la manifestazione in cui si scoprono le novità, si scoprono le nuove tendenze, si scoprono i nuovi consumatori di oggi e del domani. E questo lo vogliamo fare, continuando a coinvolgere tutte le realtà italiane che in effetti contribuiscono a far sì che il settore del vending sia importante perché non ci dimentichiamo che oltre il 70% dei distributori automatici sono prodotti da aziende italiane. E questa è una cosa che i nostri spettatori per lo più non sanno. No, anche che l'Italia è uno dei principali mercati al mondo del vending, credo il secondo addirittura dopo il Giappone e gli Stati Uniti, quindi un numero veramente importante. Ma è il principale produttore al mondo per attrezzatore, know-how, tecnologie e caratteristiche complementari al settore. Assolutamente, per cui vogliamo che questo Made in Italy ci aiuti nell'opera di internazionalizzazione e vogliamo far sì che veramente la nostra platea sia sempre più internazionale e che questo momento diventi il momento d'incontro dell'industria del vending. Ogni due anni a Milano a cominciare dal 2016. Diciamo anche che il 2016 vedrà il ritorno della manifestazione in formato ufficiale. Nel 2015, pochi mesi fa, si è tenuta a Milano nel corso di TuttoFood una special edition fortemente voluta dal defunto presidente Pinetti che ha avuto certamente un successo assolutamente impensabile rispetto a quelle che erano le aspettative ma non va confusa con la versione ufficiale, cioè quella degli anni pari. Sì, Venditalia sarà ogni due anni, continuerà ad essere ogni due anni così come dal 1998. Il 2015 è stata un'edizione speciale, fortemente voluta, soprattutto in considerazione del fatto che in quegli stessi giorni inaugurava Expo e quindi per l'Italia e anche per il settore del vending questo rappresentava un'opportunità unica perché non ci capiterà più. Bene Monica, allora, diciamo anzitutto quali sono le sorprese che avete messo in campo per rendere attrattiva ancora di più questa edizione di Venditalia, quella 2016? Allora, abbiamo sicuramente messo a punto tutta una serie di servizi sia per gli espositori che per i visitatori ma in questo momento la cosa principale su cui stiamo lavorando sono tutti gli strumenti di comunicazione dalla nuova campagna al nuovo sito a tutti i nostri nuovi profili social mi raccomando visitateci sulla pagina Venditalia di Facebook che ci aiuteranno da qui a maggio a comunicare agli espositori, agli espositori potenziali e ai visitatori tutte quelle che saranno i nuovi servizi e le novità dico anche nuovi potenziali espositori perché ci piacerebbe comunque che nuove aziende nell'ambito food and beverage ma non soltanto si avvicinassero a questo settore e utilizzassero Venditalia per entrarne in contatto tra i servizi posso citare per esempio degli spazi che abbiamo pensato di mettere a disposizione degli espositori per delle sale riunioni e dei magazzini perché negli anni passati c'era stata una forte richiesta per non andare a utilizzare le metrature degli stand l'area kindergarten perché così i visitatori potranno tranquillamente lasciare i bambini e visitare in assoluta serenità la fiera l'auditorium che le aziende potranno e utilizzare per presentazioni proprie ma che soprattutto con feed e venditalia riempiranno di contenuti con convegni e approfondimenti e poi come dicevo un'area che vorremmo dedicare alle new entry quindi a quelle aziende che si vogliono affacciare al settore del vendi ma che non hanno ancora né l'offerta di prodotti né la quantità di prodotti per poter fare uno stand proprio diciamo enfatizzare ancora di più il B2B perché di fatto è un'offerta e richiesta si vanno a incontrare proprio nel corso di questi quattro giorni e dare loro la possibilità di fare business esattamente noi vorremmo che questa quattro giorni ogni due anni diventasse il momento veramente di incontro importante per queste industrie è importante per presentare le novità è importante per venire a contatto con le novità ma soprattutto per fare business perché di questo stiamo parlando Monica, quando ti hanno proposto il settore marketing di Venditalia 2016 in te, che cosa è successo? Ah, io ero molto contenta, dico la verità perché il settore è un settore bellissimo Venditalia è una fiera bellissima è made in Italy e insomma dobbiamo veramente lavorarci tutti insieme e continuare a investirci è la fiera delle fiere della distribuzione automatica come ormai da qualche anno io dico e decanto attraverso le nostre interviste è certamente la manifestazione internazionale dedicata alla distribuzione automatica con un numero maggiore di visitatori di espositori ma soprattutto non dimentichiamolo di materiale, prodotti, idee made in Italy ciò che in tanti non solo ci invidiano ma qualche volta ci rubano per andare poi a replicare in qualche altro paese del mondo anche vicino dicendo beh questa è un'idea nostra anche se gli italiani poi ci avevano pensato un po' prima diciamo la verità gli italiani sono molto più bravi hanno anche molte idee in merito all'innovazione per tutto ciò che è distribuzione automatica assolutamente sì vero, confermo e Monica allora diciamo che questa è la presentazione dell'evento che avverrà tra il 4 e il 7 di maggio 2016 nel corso dei prossimi mesi avremo modo avrete modo di comunicare attraverso i nostri strumenti che lo ricordiamo sono la rivista bimestrale Vending News il sito della distribuzione automatica italiana vendingnews.it e la Vending Newsletter spedita a 54.000 persone in tutto il mondo tutte quelle che sono le novità che settimana dopo settimana andrete a comunicarci noi naturalmente contiamo sulla vostra collaborazione per poter divulgare attraverso i nostri strumenti tutto quello che può rendere ancora più d'appeal questa fiera ci contiamo? assolutamente sì noi vi ringraziamo e ovviamente useremo i vostri strumenti che ci mettete a disposizione per comunicare tutte le novità ne avremo molte da qui a maggio grazie molto bene e io dico usateci usateci e allora grazie Monica ovviamente scherzo grazie a te noi avremo modo nelle prossime settimane di comunicarvi tante altre novità in merito all'evento del biennio Venditalia 2016 Fabio Russo qui ai stati generali del Vending a Milano nella sede di ConfCommercio insieme a Monica Balocco consulente marketing in questo caso responsabile per il marketing di Venditalia 2016 vi aspettiamo un tipo di FOR Ukraine